Buongiorno, mi chiamo Viviana, ho 22 anni. Sono Antonio Giordano, ho 26 anni. Sono Francesco, ho 32 anni. Mi chiamo Lisa. Mi chiamo Paolo Bergamin. Ciao a tutti, io sono Giosua. Sono Anna, ho 23 anni. Sto frequentando questo Master in Business Management presso Inforelea. Con l'obiettivo di professionalizzarmi a livello teorico. Perché l'ho visto come un'opportunità in più. Mi sono resa conto che mi mancavano alcune cose a livello proprio accademico. Quindi per quanto riguarda la parte di economia, di marketing, che mi interessa molto. Rappresentava per me la possibilità di incontrare personalità di spicco, come quelle dei professori. L'opportunità di approfondire attraverso il Master di Inforelea tutto quanto quello che è l'aspetto che più a me interessa, che è quello della finanza e della gestione d'impresa. Perché è una scuola che mi ha concesso di acquisire maggiori ancora capacità e abilità per il mio futuro lavoro. Conoscere, avere delle basi e delle conoscenze in quest'ambito mi è sempre interessato e lo reputo molto importante appunto per un futuro lavorativo. Per questo motivo ho deciso appunto di intraprendere il percorso del Master. Mi è servito tantissimo. Questo Master mi ha dato la conferma di quello che appunto voglio fare. Una cosa che mi è piaciuta molto di questo Master è l'approccio interattivo. Le lezioni sono molto più improntate alla praticità. Essere ogni giorno a confronto con docenti che fino a 12 ore prima stavano lavorando e che usciranno da qua e continueranno a lavorare, dà una marcia in più e dà delle conoscenze in più che al di fuori di contesti come questo Master sono difficili da reperire. Credo di non avere molti dubbi. Sono state utilissime soprattutto per quanto riguarda sistemi bancari, identificazioni di passi di interesse. Davvero, davvero, davvero utile. Poter comprendere le logiche che stanno alla base di ogni azienda, del funzionamento delle aziende. Sono state delle lezioni molto interessanti da molti punti di vista. Sono molto contento perché è un ambiente in cui capire anche come funziona il mondo del lavoro. Tra le conoscenze e la possibilità di eseguire poi un tirocinio, il mondo del lavoro è a due passi. Grazie.